Il complemento di qualità, lezione base esercizi, a cura del prof Alfonso Zera. Individuo il complemento di qualità, hai 5 secondi per ciascuna frase. Individuo il complemento di qualità, hai 5 secondi per ciascuna frase. Individuo il complemento di qualità, hai 5 secondi per ciascuna frase. Individuo il complemento di qualità, hai 5 secondi per ciascuna frase. Individuo il complemento di qualità, hai 5 secondi per ciascuna frase. Individuo il complemento di qualità, hai 5 secondi per ciascuna frase. Individuo il complemento di qualità, hai 5 secondi per ciascuna frase. Individuo il complemento di qualità, hai 5 secondi per ciascuna frase. Individuo il complemento di qualità, hai 5 secondi per ciascuna frase. Individuo il complemento di qualità, hai 5 secondi per ciascuna frase. Grazie a tutti. Grazie a tutti.